In questo video tutorial vi mostro come è possibile attivare un servizio di hosting gratuito con preinstallato Joomla 4. La versione di Joomla che troverete preinstallata è sempre l'ultima disponibile. Se non siete registrati vi potete registrare come privato o come azienda oppure eseguite il login. A questo punto potete cliccare su aggiungi un prodotto, hostdev. Scegliete il nome del dominio di prova che verrà nomescelto.sviluppo.host. A questo punto scegliete il CMS da preinstallare, in questo caso Joomla 4 e in pochi minuti il servizio sarà attivo. Potete cliccare su gestisci ed entrare nel pannello di controllo del servizio di hosting ma in realtà in questo caso ci fate ben poco perché Joomla è già stato preinstallato. Eccolo qui. Recuperate quindi dalle mail di attivazione la password di admin e il gioco è fatto. Il servizio di hosting rimane gratuito per sei mesi. Potete in questo modo testare il software, sviluppare un sito per un cliente e se volete portarlo poi in produzione. Buon lavoro! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!